ultimamente stanno spuntando come funghi o come asparagi visto che credo che gli asparagi spuntino più dei funghi post video commenti messaggi al sottoscritto riguardanti un secondo posto di michael crizzo al mister olimpia se non addirittura un'ipotetica vittoria di michael crizzo ma io penso che questa sia pura fantascienza e questa è la sua routine altro che ha vinto chiaramente perché per quanto sia un ottimo bodybuilder e vendolo sul palco mi sono ricreduto un po su certi suoi limiti soprattutto la schiena che mi sembra meglio di quanto pensassi vedendolo su instagram credo che comunque guardando i bodybuilding da anni che sia letteralmente impossibile che arrivi secondo e adesso vi spiegherò un po i motivi i motivi sono molto semplici i body building e politica oltre che prestazione sul palco il bodybuilding non è una gara dei 100 metri in cui il vincitore è inequivocabilmente chi arriva primo ci sono gusti personali dei giudici gerarchie questioni politiche è come dico sempre non lo dico io ma lo dice la scienza del bodybuilding perché come detto a meno che uno non sia un philett o un ronny coleman che nessuno dei due è arrivato secondo al mister olimpia all'esordio è davvero improbabile che un bodybuilder non dico sconosciuto ma che non ha calcato grossi palchi della ifpb faccia così bene poi a me piace molto però penso che sia acerbo il posing è un po incerto inizia ad avere qualche problema a tenere le pose questo è il call out finale del plug pro è un bodybuilder che arriva secondo primo deve avere una presenza di palco una presenza scenica decisamente più controllata senza affanni e vedrete verso la fine di questa routine che mica le un po in affanno non ha una definizione eccelsa ma questo ci può anche stare perché si sta provando per il mister olimpia suda un po troppo troppe cose che non tornano per un bodybuilder che in base a quello che si dice su instagram o in certi circuiti social o quello che alcuni di voi mi riferiscono non credo che sia al momento fattibile per tutti questi motivi poi chiaramente ottimo bodybuilder avrà tempo per farsi conoscere per migliorare in generale e io credo che comunque rientrerà nella top ten mi sembra impossibile tenerlo fuori dalla top ten ma non credo che si avvicinerà al secondo posto o la top 3 io penso ci siano altri bodybuilder come ho detto miliardi di volte cioè brandon curry a di chupan ante la brada nick walker ovviamente bigrami primo cioè i primi cinque posti credo che siano indiscutibilmente loro e ci sono certe pagine tra cui questa che si chiama we is the best bb che a quanto pare non fa altro che pubblicare paragoni tra michael crizzo e altri bodybuilder e l'ultimo è questo side chest nel senso chi lo fa meglio tra bigrami e michael crizzo l'unica cosa che do di vantaggio a michael crizzo ma non è neanche nel side chest vera e propria preparazione side chest e questa densità un po superiore della schiena perché rami sembra un po piatto visto lateralmente di schiena ed è una cosa che non mi piace però side chest è forse la posa migliore di rami una delle pose migliori in assoluto e proprio in questo post ian valier ha scritto sta giusto arrivando al misto olimpia e lo stanno già comparando cioè paragonando al campione cioè bigrami ovviamente crizzo ha risposto e ha scritto ian è un piagnone all'olimpia gli farò vedere cos'è il bodybuilding è come dico sempre ian valier non perde occasione per dire la sua in maniera un po polemica questi sono alcuni suoi aggiornamenti alculi visto che si tratta della schiena sui aggiornamenti io credo che ian rientrerà nella top ten penso che entrambi battaglieranno con posto nella top ten e io credo che ian abbia dalla sua un posing superiore una presenza di palco superiore una gavetta superiore quindi vedremo un po chi dei due la spunterà non perché pensi che ian sia un bodybuilder per forza superiore ma perché comunque ci sono questioni politiche ci sono questioni gerarchiche ian posa meglio ian ha più esperienza ian in generale più definito tutta una serie di motivi però io credo che crizzo se la giocherà con lui e con altri per stare al ridosso della top five però comunque stai a vedere perché come dico sempre è il palco che parla le mie sono parole sono consapevole di ciò però finché non si sale sul palco tocca anche fare video di questo tipo per mettere un po le cose in prospettiva non per fare roto calchi o roba alla barbara d'urso come ha scritto qualcuno nei commenti ci sta come commento però dobbiamo aspettare il palco è aspettarci secondo me un grande mister olimpia buona grazie a tutti Grazie a tutti.